15 50 80 la paura 88 la picola 56 io ma come si è ventida! 56% delle vittime presi di mila dal cyberbullesmo loro c'è il proprio orientamento sessuale 66 io è vivo per prima Il 66% delle vittime prese di mira dal cyberbullismo lo è per il proprio aspetto fisico. 67% Io Ma socialismo No 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 A sociale Il 67% delle vittime prese di mira dal cyberbullismo è timido. 43% Io Il 43% delle vittime prese di mira dal cyberbullismo è straniero. Questo non è un gioco, questi non sono numeri a caso. Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, un nostro compagno subisce. Noi abbiamo deciso di non giocare il cuore. Ingo! Noi abbiamo deciso di non darmi un nuovo progetto. Come noi abbiamo deciso di non giocare il cuore sonore. Come ми fare ai decei e non giocaremi prese di venire. Noi sono эту maggiore. Amo Earlier Viper Grazie a tutti.